Cosa si inventa? Finta su Nora, finta anche su un altro avversario e destro sotto la traversa dello splendido gol di Serginio 3 a 4, il Cagliari torna sotto, doppietta e primi gol del campionato Palla per Serginio, riportista a palla e il gran gol di Serginio Intanto Serginio per Gigi Asquer e il gol di Gigi Asquer All'ottavo arriva il gol che accorcia le distanze per il Cagliari con Ruffini schierato come portiere in movimento Palla per Serginio, destro solo deviato da Mammarella e dunque Montesilvano 4 Il palo colpito dalle molle e qui arriva il gol del pareggio del Cagliari Angolo di Serginio, sinistra al volo di Ruffini, di Ruffini, di Ruffini, ancora per Bonfin sul secondo palo La palla passa tra... Terminerà così la partita, malgrado nel finale il Cagliari cerchi ancora il gol Per gli ultimi due posti che portano direttamente in serie a 2 Qui arriva il gol del 4 a 1, riportanza di Bonfin, scambio con Astrucci Palla sul secondo palo, dettagliata da Serginio, 4 a 1 Tappi invincente di Saiotti per l'1-0 della scuola di Chilemi Casa del derby con l'ATS Abbiamo visto una serie di occasioni con quella clamorosa Che poi sfocia ovviamente nel gol del Cagliari Ripartenza, appunto il Cagliari dilaga perché ha 28 secondi dal termine Bonfine per Cavalcante che pesca Serginio sul secondo palo Per punti a meno 2 dalla zona play-out occupata dal Vesevo Viene da 3 pareggi e 2 sconfitte di Serginio servito da Asquer Il primo gol per Serginio in campionato, è il vantaggio del Cagliari contro la capolista Una mistra il risultato e va a trovare il terzo gol Bonfine intercetta palla di Rociavagner Scarico per Serginio suolato da destra a sinistra Di numero 5 rosso-blu ed è il 3 a 1 per il Cagliari Quinto gol per il Cagliari A quinto minuto arriva il pareggio del Cagliari Bella azione, Serginio, Ruffine, Bonfine Palombella per Gigi Asquer E' il gran gol ancora di Gigi Asquer Ed è l'apertura per Serginio Numero su Fornari La conclusione da Calaro Il gol del pareggio E' il gol di Serginio Serginio In campionato per Bonfine Insiste il Cagliari Palla qui per Serginio Sprendito cucchiaio che accarezza Serginio Può parte Serginio GOOOOOOL Serginio Cercare Gigi Asquer Il gol di Gigi Asquer Un punto raccolto a Bologna Nelle ultime 6 partite In casa 2 vittime Serginio La conclusione Il gol di Serginio Cavagnide 1 a 1 del Cagliari Invece terzo ultimo classifica Con 6 punti in più della PS 13 per la scuola di passaggio 1 a 0 Di Giancanaro Bellissimo servizio di Serginio Per la corrente Serginio Il gol di Serginio